Misto, è finita questa amichevole che di amichevole ha avuto poco, è stata una partita spigolosa, forse è un bene che vengano queste partite, però un attimino sopra le righe. Sicuramente è un bene perché adesso ci si avvicina ancora di più e bisogna cercare anche di mettere un po' di mentalità e personalità. Queste partite così ben vengono, dove in questa partita ci sono fatte delle cose buone e delle cose meno buone, dove dobbiamo cercare di andare a migliorare ed è meglio che sia oggi così. Dal punto di vista della personalità è soddisfatto? Perché ho visto che i ragazzi rispondevano colpo su colpo alle tensioni del campo. Ma sì, sì, non mi riferisco più personalità anche sotto la gestione della partita, specialmente nel primo tempo dovevamo avere più personalità in certe situazioni per poter magari fare meglio, sicuramente. Questo sicuramente, però sono contento di questo, meno contento di altre cose. Si possono sapere oppure... Ma no, no, è normale che in questo periodo qua uno, cioè non questo momento, il normale allenatore vuole sempre vedere subito delle ottime giocate, delle ottime situazioni, però sa anche bene che siamo in un momento dove stiamo lavorando e ci possono essere anche questi momenti, dove ci sono alcuni giocatori che ancora non hanno smaltito il lavoro e dei giocatori invece che lo smaltiscono meglio. Però la perfezione non ci sta in questo momento qua e questo mi sta bene, però bisogna anche migliorare. La tabella di avvicinamento al campionato è rispettata dal punto di vista dei progressi del lavoro fatto, di quello recepito? Sì, sì, quello sicuramente. Si sta lavorando molto bene, si sta proseguendo con un lavoro importante, che i ragazzi stanno veramente facendo molto molto bene, sono così disponibili che questo non fa altro che ritenermi contento per il proseguo. Cosa importante è che nessuno sia ai box, no? Perché sono tutti disponibili. Quella è la base oggigiorno, perché se siamo partiti il 4 agosto e siamo arrivati oggi e nessuno si è saltato un allenamento, già è una grande cosa. Quali sono i programmi della settimana? Ci sono in programma nuove amichevoli? Sì, abbiamo altri due amichevoli, la giovedì prossima e domenica e il resto continuiamo a lavorare. Quindi la soddisfazione che comunque c'è per quello che si sta facendo? Sì, sì, ci sta. Ti ripeto, bisogna migliorare, bisogna cercare di capire ancora di più, perché adesso si inizia ad avvicinarsi sempre di più sia la Coppa Italia che il campionato. Bisogna assimilare per bene e cercare di migliorare quello che stiamo facendo. Perfetto, grazie mister.